Elena Gomez e la madre, l'ultima decisione su Justin. Elena Gomez sta cercando di convincere la madre ad accettare la sua relazione con Justin, Selena Gomez sta facendo di tutto per convincere la madre, che Justin Bieber stavolta è un uomo diverso e non le spezzerà ancora il cuore. Una fonte vicina alla cantante ha rivelato in esclusiva al sito liuogrifeconi, che lei pensa che Mandy alla fine darà una nuova opportunità Bieber, ha solo bisogno di un po' di tempo. La donna è molto protettiva nei confronti della figlia, non vuole che stia male di nuovo, se il continuo a rivettere alla madre è quanto Justin sia cresciuto, maturato e cambiato. Lei, però, non sembra essere intenzionata a cambiare idee sul fidanzato della figlia, stando alla fonte Mandy ha detto a Selena, che non vuole vedere Justin, non approva la loro riconciliazione, non riesce a sopportare nemmeno di sentire il colore. La cantante continua a implorare la madre di dare un'altra possibilità al fidanzato, ma al momento non sembrano esserci speranze. Iustine e Selena Felici, la madre di lei lo accetterà, Justin Bieber e Selena Gomez hanno avuto molti alti e bassi in passato, ma stavolta hanno preso molto seriamente la loro storia d'amore, tra loro le cose non sono mai andate cos, bene come in questo momento. I due non trascorreranno il Natale insieme, ma hanno grandi progetti per il Capodanno, stando ai rumors inizieranno il nuovo anno a New York, manca solo un giorno a Natale, speriamo solo, che Sel farà pace con la madre per trascorrere le feste insieme in modo sereno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.